Perché rendere alternativi lo studio e lo sport? Nato sei anni fa, il Gianelli Campus, liceo scientifico ad indirizzo sportivo, mantiene il principio voluto dalla Diocesi di Chiaveri, quale percorso in cui la solida preparazione accademica si unisce alla pratica sportiva, qualificata e diversificata, con l'obiettivo di essere una scuola di vita che muove il corpo e la mente. Il desiderio della Diocesi, in particolare del Vescovo Alberto Tanasini che ci ha lasciati proprio in quest'anno, era quello di poter custodire all'interno della Chiesa Diocesana una realtà scolastica dove un po' si seguisse il doppio binario e della formazione culturale che una scuola deve necessariamente proporre in maniera attenta e anche in maniera un po' di qualità, al contempo anche garantire un accompagnamento, una formazione umana che possano diventare per i ragazzi la possibilità di accrescere le loro conoscenze in un contesto che li faccia crescere anche dal punto di vista umano e dia loro dei valori significativi. Seguendo proprio la matrice di questo liceo, che è il liceo scientifico sportivo, noi desideriamo appunto accrescere il nostro aspetto culturale, accrescere anche la nostra potenzialità umana tramite la cura del fisico, la cura dello sport che comunque non dimentichiamo può essere anche per tanti una valvola di sfogo, un modo per mettere a frutto alcune delle proprie capacità e al contempo anche lavorare un po' su se stessi, cioè essere esigenti con i nostri ragazzi perché i nostri ragazzi possano insieme appunto all'aspetto culturale e sportivo coltivare le proprie doti umane, la propria umanità e anche affrontare insieme le proprie fatiche. Una scuola che lavora in squadra è una sfida importante al futuro, una proposta unica sul territorio, con valori che gli studenti che guardano al domani hanno percepito appieno come validi in qualsiasi contesto, da quello lavorativo a quello sociale e come indicatori di inclinazioni utili in futuro. Mi chiamo Michele, faccio parte della classe quinta e questa scuola qui l'ho scelta grazie anche comunque a molti consigli di amici che venivano qui, mi hanno sempre parlato molto bene di questa scuola, di tutti i progetti che è andata a affrontare nel corso degli anni. È una scuola molto bella sotto il punto di vista degli eventi perché organizzano molti incontri didattici con maestri di altri sport o comunque fanno provare a ragazzi che non hanno neanche mai provato uno sport a conoscere quello sport che si va a provare. Ad esempio io per la prima volta quest'anno ho provato karate, è venuto un maestro a farci qualche lezione e ho scelto l'indirizzo scientifico sportivo perché comunque mi definisco anche una persona sportiva, mi piace l'ambito dello sport in generale. A seguito del mio esame di maturità stavo pensando sempre di continuare nell'ambito scientifico sportivo. Mi chiamo Laura, vengo qui allo scientifico sportivo e sono entrata comunque per una mia passione riguardo allo studio delle scienze del corpo umano e grazie alla pratica e anche allo studio delle scienze motorie che sono appunto materia di questo liceo ho potuto comunque approfondire le mie conoscenze appunto proprio specificatamente nell'ambito appunto dello studio del corpo umano perché io in un futuro vorrei andare a fare medicina che è un'università difficile ma in questa scuola mi ha aiutato tanto. Io sono entrata anche per il fatto che facevo judo a livello agonistico e quindi con gli impegni sportivi mi ha dato molto una mano per le interrogazioni programmate, per aiutarmi appunto a mettere su un piano sia lo studio che la pratica del mio sport e penso che sia stata una scelta più che giusta. Io mi chiamo Sara e appunto frequento la quarta del liceo Gianelli Campus e la mia scelta appunto di questa scuola è partita grazie a un consiglio di una ragazza che veniva qua anni fa che mi ha consigliato la scuola e mi ha appunto detto ciò che si fa all'interno di questa scuola ovvero che offre grandi possibilità sul punto di vista sportivo nel senso che su molti sport viene fatta una pratica con diversi professionisti diciamo che ci permettono di conoscere al meglio tutti gli sport e tutti gli ambiti. Ho scelto inoltre di fare questa scuola proprio perché voglio improntarmi in un futuro in un'università di fisioterapia appunto credo che la scelta della scuola dello scientifico sportivo mi possa portare a conoscere al meglio gli ambiti che poi riguarderanno anche la fisioterapia appunto. A noi fa piacere che i nostri ragazzi possano uscire e avere contatti anche con le realtà esterne quindi di conseguenza nel mio campo io cerco di farli partecipare a concorsi di storia in modo che si possano mettere davvero anche in competizione, una sana competizione però vedere anche altre realtà e attraverso questi concorsi, questi progetti più volte abbiamo vinto e abbiamo potuto partecipare per esempio a viaggi che promuove la regione Liguria siamo stati a visitare il Parlamento Europeo, la realtà di Strasburgo insieme ad altre scuole e questo è stato positivo. A noi interessa molto che i ragazzi possano uscire e confrontarsi. Il puntare ad essere veramente una scuola che diventa gruppo e nei gruppi classe e nel gruppo scuola in generale è un aiuto prezioso perché i ragazzi si sentono accompagnati dagli insegnanti, si sentono spronati ancora di più a fare gruppo ma si sentono davvero spronati a guardare la loro vita all'interno della scuola a 360 gradi e questa è una testimonianza molto importante di non vedere la propria vita a settori ma di essere aiutati a crescere guardando all'uomo nella sua totalità. Una scuola aperta, partecipata, umana, educativa, con al centro la persona e la sua crescita in grado di incidere sul futuro della società perché, citando Leonardo da Vinci, sempre la pratica deve essere edificata sopra la buona teoria.